In prima fila stasera, siamo dalle 11 di stamattina, veniamo dalla provincia di Bari per vedere le vibrazioni, perché vibriamo anche noi Ragazze da dove arrivate? Da Battipaia, ci piacciono molto le loro canzoni, le ascoltiamo sempre Allora valeva la pena di venire atteggiando? Assolutamente Questa sera ci dobbiamo assorbire praticamente tutte le vibrazioni di questi cantanti proprio al massimo Sono arrivati da tutta la provincia salernitana, ma anche da Puglia, Basilicata e Calabria Una folla festante ha gioiosamente invaso Teggiano nel fine settimana dedicato alla 25esima edizione di Teggiano Jazz Oltre 3.000 le presenze nella serata di sabato, nella quale come promesso le vibrazioni hanno infiammato con la loro musica la gremita Piazza San Cono Finalmente serverebbe veramente un ritorno alla normalità Uno spettacolo nello spettacolo che ha esaltato ancora di più l'applauditissima band milanese che non si è risparmiata offrendo una performance entusiasmante per circa due ore Questo maledetto virus ci ha cambiato la nostra vita quotidiana Vedere la piazza riempita fa un effetto diverso Questo è un progetto che l'abbiamo recuperato Fu finanziato allora quando il consigliere regionale era assessore Dove lo ringrazio ora per allora di averci dato questa possibilità Questo è un modo per far partire tutta quella che è l'economia Tutto quell'intotto turistico che insomma si era bloccato si era fermato Abbiamo attraversato un momento molto difficile Due anni complessi E questo spero che sia l'inizio di una nuova fase È davvero bello vedere la piazza con tanta gente È un modo anche per visitare questa splendida città museo Allora Mario tu vibri o non vibri? Certo che vibro faccio vibrare il mio corpo e anche l'aria Ma questo pezzo si può tagliare? Sì 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 lo tagliamo Mamma no qua Loro fecero un concerto a Melpi Era il momento che si scioglie si dovevano sciogliere il gruppo E dopo 10 anni sono di nuovo qua Siamo venuti molto in anticipo perché li stiamo aspettando Però arrivino presto sono le sette e mezza Il concerto dovrebbe iniziare alle nove Eh vabbè noi li aspettiamo un'altra ora e mezza Però la prima fila non te la toglie nessuno Siamo qua ad aspettarli C'è anche un signore che viene da? Polla Da Polla Però non sono pollese Ho sposato una campana e sono qua in giro per questo per amore Ma lei è qui per il concerto? Sì per il concerto noi siamo i concertisti dell'estate Viva Tejano Jets Viva Tejano Jets Viva Tejano Jets Non parlo più È il mondo che cambia Grazie Viva Tejano Jets Viva Tejano Jets